Buongiorno, benvenuti tutti a questa rassegna di oggi 30 agosto. Allora, il grande tema oggi della giornata, come dice il Corriere della Sera, di nuovo proteste dell'Europa, grande questione, nuova questione dell'Europa contro l'Italia di Salvini. La protesta questa volta è di Macron, che parla di un nuovo scontro nell'Europa. Chissà che cosa abbiamo fatto a Macron, a parte il fatto che come qualche analista oggi mette sui suoi giornali, Macron ha un piccolo problema interno, prima per la sua carica del corpo, di cui non era amante, per carità, un'escusazione non petita che nessuno gli aveva chiesto, e poi il suo ministro dell'ambiente che si dimette, però qui squiglie. Il vero tema è geopolitico, e cioè il fatto che con la rottura dell'Italia, esattamente l'opposto di quello che ha spiegato Monti con quella sua saccenza senatoriale pagata da noi a vita, beh, esattamente all'opposto, l'Italia siccome non è più, diciamo, ancillare a quell'accordo franco-tedesco e non c'è più la Gran Bretagna all'interno di questo grande schieramento europeo, beh, insomma, c'è qualche problema se l'Italia si mette di traverso. Questa cosa non la spiega il giornale Libero, Mario Giordano, Nicola Porro, ce la spiega un professore universitario, che non è Mario Monti, ma è Mario Gervasoni, chi ci spiega cosa sta succedendo sul messaggero? Ve lo segnalo perché è molto interessante, dice intanto il commissario bavarese Oettinger quello che ha spiegato un numero inesistente, falso, e cioè che l'Italia è contribuente netta per 3 miliardi, ha preso un anno e non ha calcolato i 7 anni del bilancio europeo, non ha calcolato che noi siamo contribuenti netti molto superiori perché secondo le tabelle della Corte dei Conti, come vi ho fatto vedere l'altro giorno, siamo contribuenti di 38 miliardi, Oettinger dice una cazzata dietro l'altra. Oettinger è quello che a giugno disse che i mercati facevano bene a bastonare l'Italia perché se vincono i giallo-verdi, se c'è un governo giallo-verde, è chiaro che i mercati votino e siano contrario all'Italia, che un commissario europeo forse può pensare ma non dire. Oettinger era quello che diceva che i cinesi avevano ovviamente gli occhi a mandorla e tutti i capelli con una riga a sinistra, il problema che lo dice in pubblico, e questo non è molto nobile per un paese come l'Europa, un continente che proprio con i cinesi dovrebbe fare una trattativa. Oettinger è quello che ne ha combinate di tutti i colori riguardo alle gaff che ha fatto, eppure quando parla dell'Italia viene preso come una specie di oracolo. Gervasoni ci dice, ma scusate, Oettinger minaccia l'Italia di sanzioni perché vuole mettere un veto al bilancio europeo, io non riesco a capire come sia possibile minacciare qualcuno di sanzioni, qualcuno me lo spieghi, sicuramente ci saranno degli europeisti, ma se io metto il veto, giusto o sbagliato che sia, e ho la facoltà di mettere un veto, non riesco a capire se posso mettere un veto perché devo subire delle sanzioni, se c'è la facoltà di veto, magari dicono delle cazzate, potrebbero farlo, questi giallo-grillozzi ci hanno abituato a tutto, ma se uno ha la facoltà di mettere un veto, probabilmente non hai delle sanzioni se metti il veto, questo però Gervasoni se lo ricorda dicendo che è come se per motivi politici avessero messo delle sanzioni alla Thatcher durante gli anni Ottanta, eh ma che c'entra Salvini e Di Maio con la Thatcher, io mi ricordo che la Thatcher negli anni Ottanta veniva esattamente considerata una cretina inglese, assurda, privatizzatrice, contro i sindacati, affamatrice dei popoli, che voleva fare le guerre come nelle Malvine, più o meno sulla scorta di come vengono definiti oggi i populisti. Bisogna l'altra cosa ricordare, e ce lo ricorda Gervasoni, che è le altre cose che si era inventato Ettinger, era quello di dire che i paesi europei che avevano deficit eccessivi dovevano avere le bandiere europee a mezz'asta, e anche quelle nazionali, e quello che voleva commissariare la Grecia, questo è Ettinger, bisogna segnalare, lo fa da qualche altra parte un articolo oggi, che l'Europa è contraddistinta da un paese, cioè quello di Macron, contro il quale ci sarebbe uno scontro europeo, che ha un paese come la Francia, che ha un deficit superiore al 3% e è aumentato soprattutto con Macron. Tutto bene, tutto favoloso, perché loro hanno un debito molto minore che l'Italia, quindi noi dovremmo essere molto più virtuosi di quanto la Francia, sono assolutamente d'accordo, così come scrive oggi Veronica De Romanis sul foglio e su tutti i falsimiti del 3%, insomma tanti falsimiti non ce ne sono, alcuni sono veri, cioè il 3% è indipendentemente da quelle scelte, dagli anni 60, tutte le ricostruzioni esposte che sono state fatte per la scelta del parametro del 3% c'è un fatto soltanto, indipendentemente da come è stato il 3% è evidente che il 3% è un dato che può cambiare nel tempo e che può avere dei criteri diversi, secondo me deve essere rispettato, ma questo è un altro discorso, questi puristi dei numeri sono i figli della tecnologia, ma comunque sia, molto interessante pezzo della De Romanis. Altre questioni, a parte lo scontro europeo, riguardano il vero tema politico della giornata è la sinistra e i populisti dopo l'incontro con Orban e lì ovviamente ieri non ne ho parlato perché mi ha annoiato mortissimo il pezzo di Walter Veltroni su Repubblica che diceva con grande intelligenza, sicuramente come sempre Walter Veltroni diceva che il problema dei populismi è che i populismi sono la destra, la destra più estrema e quindi la sinistra deve fare la sinistra. Oggi è molto buono il pezzo di Claudio Cerasa, direttore del Foglio, il quale è uno che ha in completa antipatia, come ben sapete, i populisti, però una cosa la dice a Veltroni e a tutti quelli che pensano che sia l'estrema destra il populismo e ve le leggo con dettagli, dice ma insomma, chi è che ha iniziato a rompere le scatole sugli avvisi di garanzia e considerarli già un segno di condanna? Chi è che ha utilizzato le intercettazioni come se fossero una fonte di prova? Chi è che ha pensato che la flessibilità sul mercato del lavoro fosse una roba mostruosa e l'articolo 18 dovesse essere cambiato? Chi è che ha fatto queste grandi battaglie? La sinistra, la sinistra caro Veltroni, tua, del tuo partito, quindi se vogliamo dire che le prime battaglie sono delle battaglie di estrema destra per quanto riguarda l'immigrazione può anche darsi ma si parte soltanto del fumo negli occhi, la sostanza, tant'è che Travaglio che è lo strillone del Movimento 5 Stelle ha sempre chiesto che si facesse un'alleanza tra il PD, la parte buona considerata lui del PD, cioè quella di sinistra, il Movimento 5 Stelle. È esattamente una costola della sinistra. Quando vedete quella cagata del decreto dignità che pensate alla destra o alla sinistra tradizionale, alla sinistra cigellina. Oggi lo spiega molto bene secondo me Claudio Cerasa. Perché è grave questa ipotesi? Perché vedete, se si pensa che è una deformazione dei liberali, della destra e il Movimento populista, si sbaglia, si sbaglia completamente. La nazionalizzazione delle autostrade, il decreto dignità, questa lotta alle pensioni d'oro su cui Salvini e Di Maio stanno litigando è un altro grande tema della giornata. Sono tutti temi che nascono dall'anti-berlusconismo che c'è stato fino a quando Berlusconi c'era, oggi ovviamente con Berlusconi inesistente ha un peso inferiore. Vedete, l'ultima cosa che mi viene da pensare riguarda una roba proprio sulla sinistra, la destra e il populismo su cui non c'entra assolutamente nulla. Oggi praticamente su tutti i giornali c'è una foto del Festival di Venezia. Il Festival di Venezia è come il decreto dignità, una cagata pazzesca. Andare al Festival di Venezia vuol dire spararsi sulle balle o dare le capocciate al muro. I film sono orrendi, si va in un posto pieno di gente, si paga moltissimo se non ti pagano i tuoi produttori, si va su questa passerella, notate la foto della passerella. Quando voi vedete un attore che sta lì in passerella, la Santanché, il Politico, il Porro, il Babbo Natale, questi passano per la passerella rossa, fanno la foto e c'è nello sfondo i giornalisti che si rompono le balle, perché si rompono tutti le palle fuori da Venezia e, scusatemi, a guardare il film a Venezia, che sono sempre delle cagate mostruose che di fatti nel botteghino non ci vanno mai. C'è qualche attore americano che cercano di dare. Venezia poi viene attaccata perché si dice che non ci sono donne. Insomma, viene attaccata da sinistra essendo un festival di sinistra insopportabile. Il madrino di Venezia, Riondino, dice ho votato Movimento 5 Stelle ma non voglio che venga Salvini. Nel frattempo a Venezia, oggi prima pagina dei giornali, si premia la fidanzata di Salvini, Elisa Isoardi, straordinaria giornalista del Direi 1, ma secondo voi l'avrebbero premiata 5-6 anni fa la Isoardi, 6-7 anni fa, fra 6-7 anni la premieranno? Grandissimo il pezzo oggi di Mascheroni, Silvia, già hai ragione. Allora, il punto qual è? Il punto è che se i giornali ancora seguono Venezia e danno questo peso a Venezia, che è zero dal punto di vista cinematografico ed è solo una rottura di coglioni, vuol dire che i giornali, l'establishment, gli intellettuali sono ancora vecchi di 50 anni, ancora pensano che è Venezia, non hanno visto Narcos, non hanno visto Fuda, non hanno visto The Crown, non hanno visto Downton Abbey, non hanno visto un cazzo, pensano ancora che è bello il film su Cucchi, ma fate un documentario se volete, su Reggeni, non lo so, fate quello che volete, cioè questi ancora stanno a Venezia e poi dici perché c'è il populismo. Veltroni dovrebbe capire che sono morti questi politici perché ancora noi giornalisti e l'establishment pensiamo a Venezia. Allora io dico, Salvini, non c'è andare a Venezia, ma che ci vai a fare? Ma che sei scemo che ti metti sulla passerella a Venezia con la Isoardi che viene premiata perché è la tua fidanzata ma nel frattempo dicono che se viene Salvini è uno scandalo? Io trovo Venezia, come posso dire, l'epifenomeno, l'archetipo della morte della tradizione. Sì, certo che la Isoardi è brava Anna, non sto mettendo in dubbio la Isoardi, anzi è una delle poche che a me stava simpatica quando stavo in Rai, non certo quell'altra, come si chiama, quella di Mi Manda Rai 3, come si chiama quella dei Rai 3, quella là, la bionda, l'amica di Cossiga. Vabbè, comunque, su Venezia certamente non farò commenti, ma li avete sentiti in termini generali quello che penso. Oggi sui giornali c'è tutto. Prima pagina dedicata a Venezia, ma che vi dedicate? E poi quando arriverà il leone faranno altre pagine sul leone, tre pagine di spettacoli, tre inviati a Venezia. Ma guardatevela indifferita che così nel frattempo mentre guardate Venezia vi potete vedere una puntata di Fuda o se non avete visto l'ultima puntata di Narcos. Beh, questo se non l'avete visto è delinquenziale. Ponte Morandi, la questione è fantastica oggi perché dopo due settimane si sequestrano i pc e i telefonini al ministero. Allora, io voglio chiedere una cosa, ma se dopo due settimane sequestrate un pc e un telefonino, io capisco che magari qualcuno, ma se uno c'aveva una prova, c'era ancora nel telefonino. Cioè, quello è un coglione, un pazzo, un fenomeno, un cretino. Scusatemi, ma vi sembra normale che si vada dopo due settimane a fare un sequestro? Tu ci fai giorno dopo. Io mi ricordo, cioè, cosa vogliamo fare? Vogliamo tenere intatto il ponte, come ha detto il procuratore, perché è una fonte di prova? Perché certo, se ci mettiamo due settimane per andare al ministero, teniamolo intatto per sei mesi. Non so quale giornale oggi dice, ragazzi, guarda che a Genova inizierà a fare casino, perché è un disastro la viabilità. Diamoci, altro che lentezza, di fretta, che lo faccia Fincantieri con la sua... Qualcuno mi dice, ma guarda che Fincantieri c'è una società specializzata nella costruzione dei punti. Difatti qua ci sono tutti i punti di Fincantieri, mentre le autostrade non le hanno mai fatte. L'altra cosa fantastica sui giornali, tirata fuori dall'Espresso, e c'è un pezzo anche oggi sul Corriere della Sera, è che sapete quando le autostrade hanno chiesto di rimettere a posto il pilone che è crollato del ponte Morandi? Nel settembre, il 31 ottobre del 2017. Allora, mi chiedo, com'è possibile che autostrade vuol fare il pilone il 31 ottobre del 2017 e lo autorizzano soltanto dopo nove mesi e autostrade deve iniziare a settembre del 2018, nel frattempo il ponte è crollato? Allora, voi volete veramente tutto questo iter autorizzativo fatto in questa maniera? Io sono il concessionario privato, io spendo 26 milioni, chiedo il permesso al ministero, arriva l'iter autorizzativo, poi passa al consiglio, poi passa al provveditorato, poi passa al porca miseria di cosa, poi passa all'altro ufficio e nel frattempo il ponte crolla. Bene, togliamo l'autostrade, togliamo i privati, facciamo fare tutto al pubblico, così secondo voi si farà tutto velocemente, ma a figurarsi. Dato negativo, davvero negativo, è la questione dei bot. Ieri all'asta, solo le 24 ore di oggi, sono passati dall'asta di luglio che hanno reso lo 0,066%, per un periodo i bot erano negativi, non spieghiamo cosa voglia dire, però insomma non costavano nulla, lo Stato guadagnava a vendere i bot. Nel luglio doveva pagare 0,066, nell'ultima asta di agosto che è venuta ieri ha piazzato 6 miliardi di bot allo 0,438, cioè 37 punti base in più. Questo cosa vuol dire? Che il nostro debito è enorme, ci costerà più soldi, sarà più caro il mutuo che noi abbiamo contratto per fare i ponti, per fare l'Italia, per fare il debito pubblico, per fare l'ILVA privata, no, pubblica sì, quella dell'Italseeder, ci costa tutto più caro. L'ultima cosa che vi voglio segnalare è quella con cui sono partito, Ivano. Fantastico, quando capite perché la sinistra perderà sempre, nonostante Veltroni, nonostante Salvini, nonostante Di Maio, è perché voi leggete oggi la prima pagina del Corriere della Sera, Gramellini, che vi dice che, com'è che dice la frase esatta di Ivano? Adesso ve lo dico, la sinistra ricominci da Ivano. Ivano è uno con la barba che manifestava ieri a Rocca di Papa, l'hanno inquadrato alla 7 la televisione dell'editore di Gramellini e ha detto sta rottura dei goglioni dei fascisti e sarebbero quelli che manifestavano a Rocca di Papa contro l'arrivo degli eritrei. E quindi coloro che manifestavano contro l'arrivo degli eritrei, che poveraccio non c'hanno nulla di male, anzi gli eritrei sono un popolo secondo me tra i più giustificati nella loro immigrazione, chi li contestava, i contestatori degli eritrei, dice quelli sono dei fascisti, cioè chi è contro l'immigrazione clandestina viene considerato un fascista e Gramellini fa un monumento a Ivano. Ivano e la sinistra dovrebbe ripartire da Ivano. Ecco, se riparte da Ivano è esattamente dove era prima, cioè quella sinistra che negava il problema dell'immigrazione, che diceva accogliamoli tutti e che non si poneva un problema banale in uno stato normale di diritto, per cui si arriva in uno stato di diritto con un permesso, con un visto, con un documento, attraverso non un barcone gestito dagli schiavisti, ma attraverso mezzi ufficiali. Questo avviene in tutto il mondo normale, soltanto Ivano e Gramellini e la sinistra fino a ieri pensavano che questo potesse avvenire senza nessuna regola e chi pensa che siano necessarie regole non è un fascista, ma è Salvini, Di Maio e coloro che hanno vinto le elezioni in Italia. Volete consegnare ancora il paese per i prossimi 20 anni a questi qua? Fate la pubblicità a Ivano per i prossimi 20 anni e avrete Salvini e Di Maio ancora al governo. Facciamo così, mettiamo Ivano e il Festival di Venezia, le due cose insieme porteranno ai populistimi per i prossimi 200 anni. Bene, con questo è tutto, vi do appuntamento domani con la zuppa di porro, se vi è piaciuta condividetela, ciao!